La tragedia, le intercettazioni, le accuse, la neve, il terremoto, Rigo Piano, situazioni che appartengono alla storia recente dell'Abruzzo e che investono come un vortice che non risparmia nessuno, anche Claudio Ruffini. L'ex capo della segreteria del governatore Luciano D'Alfonso, ora in pensione, non ci sta ad essere il capro espiatorio per situazioni che nella sfera dell'eventuale irresponsabilità a altri padri. In una lunga lettera Claudio Ruffini descrive le sue sensazioni e fa delle opportune precisazioni. «Sono molto amareggiato per quanto accaduto a Rigo Piano», dice Ruffini, «per i familiari e per le vittime. Lo ero prima ancora che la tragedia entrasse nella mia vita e in quella della mia famiglia. Adesso il sentimento di dolore si è unito ai sentimenti di paura, di vergogna, di incredulità, di sconcerto. Amministro la cosa pubblica da oltre 30 anni», dice ancora Ruffini, «e mai mi era capitato di trovare il mio nome accostato ad una tragedia che ha sconvolto il paese, la mia regione e la vita di tante famiglie. La circostanza che il mio nome all'improvviso sia diventato centrale non di una parte della gestione del maltempo in Abruzzo, ma della tragedia di Rigo Piano, mi ha colpito intimamente», aggiunge Ruffini, che prosegue. «Nella mia coscienza mai avrevo riflettuto sul mio ruolo in quei giorni terribili, se non come a quello di facilitatore o, se volete, di servitore che cerca di dare quante più risposte possibili in una situazione di grave emergenza. In quei giorni sventurati», aggiunge Ruffini, «mi sono adoperato con ogni mezzo e sacrificio affinché i territori, i sindaci tutti, le comunità piccole e grandi ricevessero una risposta dalle istituzioni preposte a gestire l'emergenza. Ero stato incaricato dal presidente Ed'Alfonso, ricorda Ruffini, a richiedere mezzi che non c'erano, che dovevano arrivare da fuori regione, dal nord Italia. Il mio compito era aiutare e sostenere i sindaci e le comunità allo stremo. Di certo», aggiunge Ruffini, «non potevo essere Claudio Ruffini, l'uomo solo al comando per gestire una calamità di tale proporzione sconosciuta in Abruzzo, se non in Italia. La mia figura è stata accostata dolorosamente e strumentalmente alla tragedia. Una rimozione della realtà», aggiunge Ruffini, «con ricostruzioni parziali, sommarie e forvianti che hanno spinto alcuni commentatori quasi a definire la mia persona come la causa o una delle cause della tragedia di Rigopiano. Se avessi saputo cosa sarebbe accaduto e chi poteva saperlo, non avrei esitato a rivolgere tutte le attenzioni del caso al territorio di Rigopiano, così come in quelle ore fatte di telefonate frenetiche, delle sollecitazioni più disparate, di sindaci arrabbiati e preoccupati. Ritengo che era umanamente impossibile offrire risposte adeguate a tutti i sindaci e a tutti i territori. È mancata sinceramente, aggiunge Ruffini, un'efficace gestione e coordinamento dell'emergenza. Il mio sfogo contro il prefetto e la prefettura segnalava questo problema. Un pezzo dello Stato, dice ancora Ruffini, non si era accorto, se non in ritardo, che c'era bisogno dello Stato in Abruzzo in quei giorni, che le turbine erano poche, che le strade erano impercorribili, che l'emergenza aveva carattere eccezionale. Questo, conclude Ruffini, è stato il segno di tutta la mia vita politica fino a quei drammatici giorni che sono coincisi poco dopo con la mia uscita dalla sfera pubblica. Ho vissuto e vivrò i giorni di Rigopiano con grande dolore e ineludibile tristezza.